L'apertura della nostra quinta sala lounge, forse quella più speciale, quella più magica perché è dedicata ai bambini, nel giro di due anni abbiamo aperto cinque sale, due a Fiumicino, una a Linate, ieri a Catania e questa è la quinta per i bambini, quindi un grande sforzo che abbiamo fatto come compagnia per garantire la massima soddisfazione ai nostri clienti e una qualità di servizio molto elevata, questo è in linea con la nostra strategia che pone al centro la clientela e i nostri passeggeri. Il servizio dei minori non accompagnati quest'anno è stato soffritto da ben 13 mila famiglie, quindi l'apertura di questa sala era fondamentale per garantire un adeguato servizio e livelli di sicurezza per un servizio così dedicato adeguato.